Aldegani 39 anni e non sentirli di nuovo col Pescara anche in questa stagione, per te un'altra scommessa importante? Un'altra scommessa importante, sicuramente per la riconferma devo ringraziare la società, il mister e il presidente che hanno apprezzato il lavoro che posso aver fatto l'anno scorso, il ruolo del terzo portiere, l'aiuto che si può dare sia al reparto dei portieri che ai compagni e sono di nuovo qua, chi mi conosce sa che sono sempre uno che è positivo e sì che mi aspetto tanto da questa stagione. Tifosi anche si aspettano tanto da questo Pescara dopo l'amarezza della scorsa estate, dello scorso campionato, si riparte con quali obiettivi secondo te? L'importante è avere la forza ormai di rimuovere quello che è successo l'anno scorso perché il calcio insegna che la partita più difficile è quella che viene e noi il Pescara è una società blasonata, importante nella categoria della Serie B e dunque è normale che cercheremo di fare il massimo delle nostre potenzialità, sperando magari di superare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. C'è la garanzia anche di questi tifosi che sono sempre vicini alla squadra, anche a Cingoli nell'amichevole con la Re Canatese sono arrivati in tanti? Certo, i tifosi ci sono sempre stati vicini e sono una spinta in più, uno sprone in più per far bene. L'ultima Aldegani probabilmente farà l'ultima stagione da giocatore nella prossima e poi cosa farà e se resterà a Pescara? Allora, chi mi conosce sa che non mi pongo limiti, finché il fisico regge e i mister sono contenti, io ci provo a stare in porta. Poi per il futuro si vedrà, mi piacerebbe rimanere nell'ambito calcistico e magari poter insegnare agli altri quello che è stato dato a me, però c'è ancora tempo.